L'agricoltura sta attraversando probabilmente il suo periodo più nero, anche l'agricoltura ferrarese in particolare negli ultimi 5 anni ha vissuto una situazione a dir poco terribile. Questo è dovuto fondamentalmente a due motivi, il primo gli effetti del cambiamento climatico e in secondo luogo la messa al bando di quegli agrofarmaci che fino a poco tempo fa ci consentivano di contrastare efficacemente le peggiori fitopatie e questo ha fatto sì che ad esempio per quanto riguarda il settore frutticolo che per Ferrara, noi sappiamo insomma quanto Ferrara abbia una vocazione frutticola e quindi queste fitopatie che negli ultimi 5 anni in particolare hanno fortemente compresso le produzioni, potete capire che impatto possa avere avuto per le nostre aziende agricole e quindi riaffiorarsi di alcune malattie che erano quasi scomparse come ad esempio la maculatura bruna del pero e la psilla. Noi abbiamo però il dovere di ricercare delle soluzioni, questi lab del Food and Science che per il terzo anno stiamo organizzando hanno questo scopo, tra l'altro parleremo di intelligenza artificiale, quindi cerchiamo di capire se questa possa essere messa al servizio del nostro settore, quindi con questo tipo di convegni noi cerchiamo di fornire anche delle risposte, ma allo stesso tempo vogliamo anche essere come una forma di illustrazione anche per i non addetti ai lavori, per i cittadini comuni per far capire ad esempio che cosa ci sta dietro quel cibo che quotidianamente noi consumiamo per alimentarci, quanta fatica, quanta dedizione ma anche quante difficoltà soprattutto in questi ultimi anni i nostri agricoltori stanno incontrando. La formazione è fondamentale ma anche la ricerca di nuove soluzioni perché come dicevo poco fa il tema degli agrofarmaci che sono stati aboliti, quindi il problema è stato che questo non è stato fatto senza contemporaneamente individuare delle altrettanto soluzioni efficaci, questo ha fatto sì che gli agricoltori oggi per certi versi stiano combattendo a mani nude, questi lab hanno anche lo scopo di cercare di capire qual è il futuro del nostro settore ed ecco nasce da qui anche il titolo del Food and Science Festival Lab di Confericoltura Ferrara del 2024. Grazie.